Ci siamo! Pochi secondi e riscatteremo finalmente quelli mod tanto desiderata da giorni e giorni Ma seriamente sono livello 303 e ho 3.303 lingotti? What? Bene ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Ho appena completato le prime due missioni del Rift Tour che prevedevano di giocare con un amico Top 25 e 10 partite assieme Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ho già riscattato i primi 30k punti, esperienza, riscattiamo anche questi e si va Che cosa dovevamo fare? Intanto piccolo off topic perché guardate tra le notizie che cosa appare, quale skin approderà a breve in gioco la figlia di Thanos Ragazzi è proprio lei e ciò sapete che cosa significa? Che tornerà anche la vecchia skin di Starlord, non ce la posso fare Ragazzi di questa skin ne parleremo in un altro video, vi dico velocemente che per averla gratuitamente nel torneo che si giocherà l'11 agosto Dovrete raggiungere la top 2500 Invece per lo spray figlia di Thanos si dovranno raggiungere gli 8 punti, molto semplice Torniamo anche oggi nella sezione Rift Tour, selezioniamo gli incarichi ed abbiamo da sbloccare lo spray del Rift Tour più l'emot di Ariana Grande Ci siamo ragazzi, però prima dobbiamo completare la sfida che dice di utilizzare un ologramma alieno a foresta frignante oppure al ponte d'acciaio di color verde Io direi di recarci subito in quel punto raga, vediamo che cosa fare Finalmente hanno abilitato quelle bellissime piattaforme aliene per tutte le console e quindi raga potrò utilizzarla per la prima volta con voi Se ricordate bene ragazzi è accaduto un casino l'altro giorno in live, vabbè lasciamo perdere Non appena completerò questa missione ragazzi assieme allo spray avremo anche l'emot che ancora non ho avuto il piacere di vedere Ovviamente si intende in game, altrimenti abbiamo visto anche il trailer dove presentavano questi emot Salviamo con Ariana e ci buttiamo in gioco Ma seriamente sono livello 303 e ho 3300 trelingotti? No, 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 what? L'ologramma alieno di foresta frignante ci ha lasciato qualche ricordino perché sì, nel momento in cui passavo su quella dannatissima piattaforma Ragazzi crashavo e quindi so proprio dove si trova Praticamente al bunker segreto, il vecchio bunker segreto di Bananita Sicuramente ci scenderà qualcuno e quindi non saremo da soli però raga Velocemente utilizziamo quella piattaforma e vediamo che cosa succede Torniamo nel menu e soprattutto poi vediamo che cosa abbiamo sbloccato Quindi, zipline Ok, scendi, 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 va benissimo Eccola lì ragazzi, eccola lì Preso qualche arma Eeeh, sì Finalmente ragazzi, la desideravo tantissimo Ma soprattutto desideravo fare ciò Ci siamo, andiamo No, no, no raga Ma avete visto Arianna? Ok Ma che riflesso abbiamo nella bolla? Mi sembra la vecchia mappa E la vecchia mappa La vecchia zona container Almeno lì vicino Uuuuh, che cosa vedo lì in alto a sinistra? Ci siamo Posso uscire? Ok Riprendiamola Ma cosa? È stranissimo Praticamente se non sparo l'effetto dovrebbe durare all'infinito Credo 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 Certo che la bolla che vedete qui su Playstation Non la ricordavo un po' più rosa Ecco, non dura all'infinito Infatti le prestazioni alfa rovinano tutto Era un po' tipo Big Bubble, sì Qui abbiamo il Mega Nexus che ci accompagna Beh ragazzi Direi di tornare al menu principale Fantastico Comunque Un item davvero figo Ci siamo E si va Vediamo ragazzi Si va Abbandoniamo E voglio proprio Vederla Voglio eseguire quelli mod L'ho desiderata davvero tantissimo in questi giorni No, 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 no Si è riflessito lo shop Per favore dammi Ok Sono emozionato Ma perché è tutto stile Big Bubble? Andiamo avanti Bell movement Bell animazione Eh? Non ho fatto nulla ragazzi Parte in automatico Ok Va bene, va bene, va bene Stavo dicendo Bell movement Mi piace l'animazione in sé E anche il sound Molto carino ragazzi Va benissimo Va benissimo Riscattiamo tutto E ci rechiamo Nello shop giornaliero Perché si è refreshato Qualche minuto fa Precisamente 5 minuti fa E ho visto già un set Ragazzi Questo è lo shop Di oggi Calzini Hands E poi starter Più custom Come sempre Un grazie infinito Va a tutti quanti voi Che sostenete il canale Giorno per giorno Utilizzando il codico Martix E la tienda De Fornet Ragazzi un bel po' di skin Quest'oggi Pacchetto lampo Della tempesta Con night beam E bengala Sotto abbiamo emissaria Già Rompighiaccio Che tutti raga Almeno in tanti Desiderano Un bel piccone Molto bello I mot Siediti Posa ti E passi inconfondibile Belle i mot Ma belle per davvero ragazzi Perché mi dà le spalle Arianna Perché Perché Vabbè Partono tutte sorte così Non lo so Madonna Mi ricordi di Halloween Ok E l'altro set che ho visto Dove sta Ok Ok Va bene Credevo fosse un bandolo Raga Perdonatemi Li mot Qui Non ricordo il sound Si che lo ricordo Scusate Facciamo vedere li mot Senza sound Perché come al solito Il tutto è copyrightato E ciao ciao video Ma guardate Che movense Attenzione a lei Attenzione raga I mot Droppata Nella stagione 6 Capitolo 2 Un bel po' di skin notes Quest'oggi Ricordi il lancio Di questa skin Tramite La stagione 4 Mi pare Stagione 5 Non ricordo bene Raga Non ricordo bene Custom Fighissimo Il suo secondo stile Anchor di più E dico Anchor di più Seriamente Guardate qui Che bello Mamma mia Tiro preciso Ed intuizione Lo shop di oggi Si va a concludere Qui ragazzi Mi raccomando Un bel ecozzo E condivisione Con tutti i vostri amici Se ancora non siete iscritti Iscriveggiatevi Al canale E nient'altro Un salutone da Martex Come al saluto Un bel Ciao Brodoz E nient'altro 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 E nient'altro